Si è tenuta presso l'aula magna della scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione del contrasto del crimine organizzato di Caserta la cerimonia di inaugurazione della scuola di formazione immediata a livello internazionale per la specificità e l'alto livello di preparazione dei docenti presenti in un'aula gremitissima tutte le forze dell'ordine al tavolo dei relatori Michele Rocchigiani direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia il prefetto Matteo Piantedosi vice capo della polizia che a margine dei lavori ha parlato a lungo con i giornalisti Luigi Sorega della commissione europea presente invece in aula tra gli altri numerosi autorità del mondo giudiziario e rappresentanti istituzionali dal prefetto di Caserta al presidente della provincia al sindaco di Caserta impeccabile l'organizzazione del cerimoniale che si è tenuto nella splendida struttura di via Ruggero curato in ogni dettaglio da Caserta è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it